Il ritorno in caserma dopo essere stati impegnati in un'emergenza. Il camion che si ribalta è tra vigili del fuoco, in ospedale fortunatamente con ferite di media entità. Nella mattinata di venerdì, intorno alle 9.30, un'autopompa dei vigili del fuoco di Fenza si è ribaltata per cause ancora da determinare alle porte di Errano, lungo la Briseghellese. La squadra tornava da Briseghella dove si era verificato un altro incidente stradale, fortunatamente di lieve gravità. Dopo la chiamata di emergenza alla centrale operativa sul posto sono accorse tre ambulanze e l'automedica. I membri della squadra rimasti feriti nel ribaltamento sono stati trasportati all'ospedale di Fenza mentre gli altri hanno iniziato ad aiutare i colleghi sopraggiunti in soccorso. Spetterà ai carabinieri ora a capire cosa abbia fatto perdere il controllo del mezzo pesante all'autista. Due le pattuglie dei militari sul posto, una da Fenza e una da Briseghella. A coattivare le operazioni è anche una pattuglia della Guardia di Finanza che si trovava di passaggio. Diversi i disagi al traffico. La provinciale infatti è rimasta chiusa per diverse ore per le operazioni di soccorso e per il recupero del chiamino ribaltato. Il traffico è stato dirottato a Sarna e sulle colline sopra Errano. Un altro incidente, il terzo, aveva caratterizzato la mattinata di venerdì. Un'auto schiantatasi contro un albero a Solorolo alle 7.30 in via Madonna della Salute. L'automobilista, un sessantenne, è stato trasportato all'ospedale di Fenza con ferite di media gravità.